Abbiamo iniziato con una primavera, nonostante turbolenta, a trapiantare le prime piante che poi abbiamo distribuito e venduto attraverso dei punti di distribuzione proprio perché il nostro negozio ristrutturato non è stato possibile attivare durante quei mesi drammatici e l'intenzione ovviamente è di aprirlo e quello che vedete adesso è il nostro orto più autunnale, in veste autunnale e stiamo coltivando e raccogliendo broccoli, cavoli cappuccio, finocchi, dell'insalata e stiamo portando avanti anche dei importanti investimenti, qua potete vedere anche parte dei nostri asparagi. Qui dove ci troviamo adesso in questo circa un ettaro di terreno coltiviamo orticole mentre nell'altra cascina, a circa un chilometro di distanza da dove ci troviamo adesso sulla via Emilia in un'altra cascina abbiamo 40 galline ovaiole che producono ottime uova e un laboratorio in ristrutturazione che sarà quello di trasformazione dei nostri prodotti ma anche dei prodotti di aziende che sceglieranno noi per la trasformazione dei loro prodotti. Ecco, se qualcuno volesse acquistare, come vi contatta, dove vi trova? Ci può trovare online sulla nostra pagina Facebook, prossima fermata, quindi potrà non soltanto seguire l'evolversi dei nostri lavori perché ci piace raccontare un po' quello che facciamo durante le settimane ma potrà interagire con noi via Messenger, ma anche attraverso il nostro numero di telefono cellulare con WhatsApp attivato, numero di telefono che è possibile rintracciare sempre sulla pagina Facebook oppure scrivendoci un'e-mail, prossima fermata 2019, chiocciolagmail.com Grazie a tutti